A parte la sconfitta con il Real Sant'Egidio, questa squadra sta dando spettacolo e sta offrendo davvero un gran bel calcio, vista anche la categoria. Sì, stiamo giocando abbastanza bene, però dobbiamo tenere i piedi per terra e dobbiamo essere umili, perché infatti come ci ribadisce sempre il mister, prima di ogni partita, che siamo una squadra molto giovane, a parte io o qualcun altro, dove dobbiamo giocare sempre a mille, perché appena giochiamo un po' sotto possiamo perdere punti con chiunque. Avete dimostrato grandissimo carattere con la Juve Poggio Marino, in dieci uomini siete stati capaci di creare addirittura tre occasioni da gol prima del calcio di rigore, annullando praticamente l'inferiorità numerica. Sì, dopo l'espulsione abbiamo cacciato un po' di orgoglio e abbiamo fatto molte valle call, ci è andata bene, dobbiamo proseguire su questa strada, ti ripeto. 3-4-3, un modulo insolito, un modulo che presuppone tantissimo sacrificio per voi esterni? Diciamo che è abbastanza isolato, come hai detto tu, però ci permette di sfruttare al massimo, al 100% le ali, però dobbiamo giocare sempre a mille, come ti avevo già detto prima, perché c'è bisogno di corsa, corsa, corsa e infatti il mister ci prepara prima atleticamente e poi mentalmente. Buon calore.